Eh dai, dovete venire, Tele Iblea ha sempre fatto pubblicità al Festival, 28esima edizione, Marina di Ragusa, stavolta abbiamo deciso anche di intercettare un pubblico più vasto in questa tarda estate, 19-22 settembre a Marina di Ragusa, correte numerosi, grandi ospiti, Matteo Garrone per esempio, che è uno che non è che si muove facilmente, farà una masterclass sul suo cinema, anche i giovani possono venire, possono chiedere un attestato di frequenza di questa masterclass utile a scuola, oppure per chi è studente universitario, poi ci sarà Roberto Andò, scrittore, regista, prolifico, ha fatto la stranezza su Pirandello recentemente, anche lui presenterà la sua autobiografia che si chiama Il piacere di essere un altro, insieme al professore universitario di Enna, Salvatore Ferlita, e poi parlerà anche del suo cinema, ovviamente faremo due suoi film, e poi tante altre cose, apriremo con l'attenzione al Festival, al cinema della Costa Iblea, cioè al cinema locale, ad esempio Giuseppe Palmeri che presenterà questo suo gustoso docu-film che si chiama Io rimango qui, è un film al sapore mucciniano di quattro ragazzi che rivangano e ricostruiscono la loro gioventù negli anni 80, e poi invece Il piacere di raccontarsi sull'handicap fatto da Antonio Carnemolla che è uno che lavora e incentiva la cultura cinematografica Maria di Ragusa, e anche una serie di film girati e che parlano di Ragusa, Raguse appunto è un seme in città, quindi grande attenzione al cinema locale, al cinema ragusano, al cinema ibleo, attenzione anche alla femminile, il finale del Festival sarà dedicato a Catherine McIlwray e Marianna Civeres, vecchia conoscenza del Festival, quindi attenzione a quello che si chiama il gender, il cinema delle donne, Fellini e l'ombra di Catherine McIlwray, e poi anche un delizioso corto Il giardino degli asinelli di Marianna Civeres, si conclude alla grande con un concerto dei Chroma Ensemble sulle colonne sonore dei film, che è un nostro light motif, non a caso uso la parola musicale, anche l'anno scorso abbiamo avuto una bella masterclass di Paolo Vivaldi, quest'anno i Chroma Ensemble chiudono con proiezioni sullo schermo e colonne sonore live, in diretta. A proposito di proiezioni sullo schermo, le proiezioni saranno tutte a Piazza Torre, quindi all'aperto dove c'è la torre dietro la piazza centrale, la presentazione del libro invece avviene nel cortile delle suole del Sacro Cuore, che è una zona molto gettonata da Liola e da quelli che seguono le cose culturali, gli eventi culturali e poi invece alla casa Villa Ottaviano, da distinguersi da Villa Ottaviano nella periferia di Ragusa, ma proprio invece quella al centro di Maria di Ragusa, c'è una mostra aperta tutti i giorni dalle 6 sino alle 11 dedicata a Marcello Mastroianni, il grande Mastroianni a cui dedicheremo una mostra fatta di manifesti cinematografici inediti, esclusivi, originali. Venite tutti!